Espulso durante una partitella di calcio a sette nell'ambito del torneo tergestino di calcio ad Altura. Inveisce contro il pubblico che assiste alla gara ma viene aggredito e malmenato da un branco di ragazzini subito dopo. E' accaduto nella serata di venerdì nel rione di Altura. Il giocatore che partecipava al torneo amatoriale mentre si dirigeva verso gli spogliatoi dopo espulsione ha sverrato calci ad una panca di legno e ha inveito contro alcuni presenti. Il gruppetto di ragazzi attorno al campetto lo ha però circondato e preso a calci e pugni. Alcuni presenti sono riusciti a separare i contendenti. Prima che arrivasse l'equipaggio della questura, gli aggressori si sono allontanati. Sul posto anche il personale del 118 che ha soccorso il calciatore, che ha riportato lesioni nelle più parti del corpo e difficoltà respiratorie e lo hanno di conseguenza portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara.